buonasera a tutti amici in questo video parleremo della partita lazio fiorentina speriamo bene ci sentiamo a fine primo tempo forza lazio simone simone allora fine primo tempo impressioni 0 a 0 e lazio fiorentina partita giocata entrambe le squadre ad alti ritmi un'azione per parte potrà segnare la fiorentina potrà segnare la lazio bene lazio sulla fascia luis alberto bene a tratti a tratti ritanti con i colpi di tacco come sempre bisogna io sono uno che dice che sempre bisogna essere concreti e poi giochiamo con i colpi di tacco ho perso 20 chili su quella palla persa da reina sul cross che ha lasciato la palla in aria si dice 20 anni di vita comunque va bene uguale se perdi 20 chili in te si vede più io dovrei perdere comunque va bene poi palla è stata buttata via l'arbitro secondo me sta fischiando troppo sui contatti quelli proprio su contatti banali comunque c'è tutto il suo tempo da giocare e ho visto una lazio abbastanza in palla anche se vedo ragazzi un po timorosi perché c'è bisogno di riscattare la brutta sconfitta di verona appunto hanno paura di sbagliare comunque come detto bene lazari e bene petro e un po in un po in ombra felipe anderson quest'oggi anche immobile immobile un po troppo timoroso a un certo punto ha sbagliato una palla che non è da lui che lì se avanti quella palla felipe anderson andava in porta da solo comunque speriamo nel secondo tempo chi oddio messa a casca dai eccoci qua è finita abbiamo vinto 1 a 0 grazie a un inizio ripresa secondo tempo bruttino devo dire nessuna delle due squadre ha tirato in porta l'unico tiro in porta appunto quello di petro che ha portato a lazio in vantaggio e poi la partita si è conclusa così devo dire mi è piaciuto basic che quando è entrato ha avuto due tre palle e ha fatto due buoni lanci bene pure anche raun moro che è entrato in campo e ha corso e ha fatto delle reazioni sulla fascia interessanti e stava facendo gol solo che era un po di gioco sì bene anche patrick che è entrato al posto dell'infortunato luiz felipe che in me è un ragazzo bravo ma sfortunato sa quasi sempre male a se riuscisse a superare questi problemi fisici secondo me potrebbe diventare un grande difensore detto questo fiorentina che ha portato a giocare ma come ho detto prima pochi diri in porta sia nel primo che nel secondo tempo fiorentina che sta per andare in vantaggio proprio poco prima del gol della lazio con un'azione capitata e dentro l'aria due tre tiri alla fine tiro alto e bene anche la eva che quando è entrato ha allevato una palla importantissima e che il centrocampista della fiorentina stava calciando in porta ha murato proprio il tiro e da lì c'è stata una buona azione di partenza della lazio detto questa detto questo bene così vittoria importante adesso testa bergamo sabato alle tre non bisogna avere altri cali di concentrazione vedremo luiz felipe se ce la farà giocare altrimenti giocare a patrick davanti oggi sotto tono felipe anderson immobile immobile secondo me troppo troppo nervoso detto questo bene così avanti così dai ragazzi